Cibo migliore per combattere. Ciao a tutti e benvenuti. Ciao sono Elsa del Circolo RT Bologna, ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale YouTube dedicato al fitness e alla salute. Oggi parleremo di una questione molto importante per tutti coloro che si allenano. Quali sono i migliori cibi da consumare durante l'allenamento? Sia che tu sia un appassionato di kickboxing o un amante dell'homo ai thai, mangiare correttamente durante l'allenamento può fare la differenza. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire i cibi che possono fornire energia e supporto al tuo corpo durante l'allenamento. Alimenti energetici prima dell'allenamento. Frutta e verdura. Prima di iniziare l'allenamento, è importante assicurarsi di avere abbastanza energia. Ecco alcuni cibi che possono darti la carica necessaria. 1. Frutta. Una mela o una banana sono ottime fonti di carboidrati naturali e zuccheri che forniscono energia immediata. 2. Yogurt greco. Ricco di proteine e carboidrati, lo yogurt greco è un'ottima scelta per fornire energia sostenuta durante l'allenamento. 3. Frutta secca. Mandorle, noci o semi di chia sono ricchi di grassi sani e proteine che possono fornire energia a lungo termine.